Musica Partiamo dal presupposto che io non suono la visarmonica ma la picchio proprio per dare forza e per trasmettere alla gente la stessa energia che io ci metto nel suonare Musica La visarmonica è uno strumento completo cioè che tu puoi suonare qualsiasi brano e con qualsiasi tonalità Nel gruppo è molto importante uno perché è uno strumento armonico quindi tutte le armonie sono tutte legate alla visarmonica in più diciamo che dipende dalle canzoni, dai brani che facciamo faccio la parte dei tappeti oppure faccio la parte solista nel complesso do molta ciccia quindi ritornando al fatto della forza riesco a essere molto presente è uno strumento che se non c'è si sente se c'è anche lo sent